ok ragazzi bentornati su last campfire siamo riusciti ad andare avanti sembrava una zona piuttosto difficile ma in realtà si è rivelata essere molto divertente molto stimolante ok qui probabilmente abbiamo uno shortcut ok allora fermi fermi beh qui c'è da da fare tante cose qui non possiamo entrare qui non possiamo andare sto cercando di capire un attimino a cosa serve questa discesa forse ho capito forse ho capito che sta facendo adesso il maiale? eh sta lì li faccio finire tutti lì in fondo no? ti faccio vedere io come si manda un maiale in maluora prego li sposto tutti qua sotto non so perché però è chiaro che il meccanismo sia questo forse visto che la ruota lì in basso non funziona con me perché non ci posso andare io a correre potrei sfruttare i maiali per darmi una mano a muovere quel ascensore anche se non ho ben in mente a cosa possa servire l'ascensore sembrerebbe un montacarichi quindi quindi deve esserci qualcosa di grande che devo trasportare potrebbe essere una cosa il golem per esempio qui ci sono dei golem beh ho spostato qui tutti i maiali qui c'è un altro frutto quindi potrei tecnicamente chiedere ai maiali di hopla no infiliamoci qua dentro uh shortcut sì nel frutteto ho incontrato lo straniero proveniente dal fuoco del cuoco non più uno straniero insieme impidiamo le nostre sacche cibo e ricordi ci aspettano sulla nostra strada ah ok ho capito ho capito ah adesso funziona prima no cazzo come faccio a bloccare come faccio a bloccare questo cazzo di mark in general vediamo forse adesso può funzionare certo che adesso può funzionare eh prima non andava per per motivi vari Toffo sa di piedi madonna quanto sai di piedi oggi oh oggi c'ha dei piedini più in forma del solito bene benissimo eh 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 ah the stranger couldn't face themself ok ok devo evitare che che si spengano i fuochi ok potevano essere due cose o che i fuochi dovessero essere tutti spenti cazzo quindi a qualsiasi distanza li spengo è mostruoso ok the stranger couldn't face themself non importa la distanza non è quella che fa la differenza è la traiettoria pronto Emma ok ma ok ok ho capito e niente ho visto che stai stai andando avanti con premiere sì 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 ieri ho finito di di vedere tutti tutti i video prendere un po' di tutto c'ho una decina di fogli più o meno uno incollando all'altro e mi sono riuscito a stare a riasciutto dalmeno dalla prima parte ma se devo fare cose con 10 fogli davanti esco male ma no in realtà secondo me devi iniziare devi iniziare a montare cioè nel senso monti e quando ti serve una cosa te la vai a trovare eh quello è bello ma mi serve una cosa ma la vado a 3,5 e 10 fogli c'è tutta il tritura del tempo non so stavo facendo un riassunto e me lo sto riorinando perché ho scritto un po' a zampi di gallina un po' a cazzo perché ti ho fatto un titolo senti oggi pomeriggio hai letto il messaggio? sì alle 5 alle 5 ma non lo so se c'è la macchina se ti devo venire a prendere io nel caso dimmelo va bene va bene dai facciamo che per le 5 meno 10 ti passo a prendere la sopra e poi andiamo a studio sì 10 minuti un quarto vabbè poi 5 minuti dopo non fa niente però insomma 5 meno 10 ci vediamo alla contessa diciamo eh sì 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 ti conviene facciamo così e e dobbiamo fare un po' di discorsi seri infatti viene pure Pamela perché pure Pamela inizia a lavorare con noi e visto che è settembre dobbiamo discutere un attimino di delle attività da fare durante l'anno le cose che dovrai fare tu le cose che dovrà fare Pamela le cose che dovremmo fare io e Nicola e e ci concordiamo guarda per quanto riguarda te io e Nicola sappiamo soltanto una cosa di sicuro che inizierai a montarci un po' di video per quei due su server 3 il terzo canale dove ci sono gameplay non tagliati cioè sostanzialmente la si tratta veramente di prendere il gameplay metterci sotto l'audio a tempo e sistemare l'audio in base a ho visto che fa la sincronizzazione automatica eh ma non la puoi fare ho visto però che si può fare il preme si la puoi fare se hai due tracce audio uguali eh beh sì eh cioè sui giochi non la puoi fare perché la voce è la voce il gioco è il gioco però si se hai tipo quattro camere che riprendono la stessa scena in base all'audio ti fa la sincronia automatica e comodissimo sì quella cosa quella cosa per certe cose la usiamo tanto per altre non si può ma di che 3 ha bisogno solo di una di due tracce video e più traccia audio no trash in realtà non ha neanche la webcam molto spesso trash è proprio gioco voce e audio di gioco quindi l'unica cosa che devi fare è mettere a sincrono la voce con il gioco e sistemare i livelli audio compressione o equalizzazione tutte queste cose qua no quello sul server 2 ma non quello sul server 3 vabbè poi ne parliamo non ti preoccupare ma comunque dai 5 meno un quarto esci tu 5 meno 10 ti vengo a prendere io dai dai adops ciao Emma introduzione allora di qua dovrei essere anzi diciamo così esatto merda quindi così così e così dopo di che che come cazzo ce lo porto là no porco eh no questo fa molla le bestemmie raga perché si riparte si riparte da capo ragazzi questo è Dark Souls questo è Dark Souls questo è proprio l'esperienza Dark Souls nooo no 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 scusate ho sbagliato ho sbagliato lo stick proprio sbagliato a premere lo stick questo è il primo enigma frustrante ma perché si ricomincia ma perché si ricomincia non perché sia una gialla amadosca basta veramente inclinare poco poco male lo stick e finisce tutto però è difficile farlo capitare nella posizione giusta sto coso eh c'è vabbè fin qua tu dici ok allora qua sotto ci sono i cosi aspetta aspetta non è che spengo qualcosa indietro no eh ma come cazzo mi muovo adesso nooo merda raga questo è un bordello ma magari è stupidissima la soluzione però è un bordello per me la estrazione non può essere e lui è fattuto a mano a più che ha a più a più a più a più Ok Ok Calmi Sì Fotti di culo Bastardo Fottiti in culo Madonna raga Madonellezza Dio d'odore di piedi qua dentro Toffo Oggi sta in forma Mamma mia quanto sta in forma oggi Sapete che mi sa che sto per terminarla sta zona Ok Questo è andato Questo è andato Questo è andato E' fatta ragazzi E' fatta Dobbiamo soltanto andare dal cuoco Ora io non mi ricordo tutti gli shortcut Perché magari c'è un modo più semplice per arrivare dal cuoco Sto fare il giro lungo Abbiate pazienza Poi attraversare la mappa non mi dispiace Molto carina Ok Eccoci Ci vuole un certo senso dell'orientamento qui Consegna i semi di loto I can't believe Where did you I've never cooked with lotus seeds before Ember felt happy seeing the cook suddenly so full of purpose What a lovely surprise Please try some It's not much but there's plenty to go around Help yourself Be well little one C'ho una ciotola piena di roba buona I do remember me if you are ever hungry Allora abbiamo il pescatore Che se ci serve da pescare ci aiuta Questo Che se ci serve da cucinare ci cucina Credo che stiamo mettendo su una sorta di task force Di allegri comprimari Che probabilmente in endgame Se tanto mi da tanto Ci aiuteranno a sconfiggere qualcuno O adempiere a qualche compito un po' più complesso Porcello The pig was joyous What is this morsel? My insides feel as refreshed as my outsides I did not dream such food was possible We will plant a garden of treats We will grow and eat like piggy kings Compliments to the chef Ok E che abbiamo risolto qui? The ghost said Speak and I will listen The path ahead lies behind Know that if you return You will always be welcome You have done I will clear the path ahead for you I will clear the path ahead for you I will clear the path ahead for you Seek them out Ma non mi direi che ho concluso la No mi manca un cazzetto lì E' chiaro che manca un cazzetto Però per assurdo io potrei andare anche avanti No raga manca Manca la cosa Non so come dovrei muovermi adesso Questo maiale che dorme qui Potrei portarlo qui A fare cosa? Perché mai dovrei portarmi qui un maiale? Non so Oh ma questo si può Ragazzi si è buggato Si è buggato Si è buggato malamente Io non posso più interagirci Eeeh no qua non è colpa mia raga Si è buggato Non ci posso fare nulla Continuerò a muoversi Eeeh no Eeeh no Eeeh no qua non ci posso fare niente signori Eeeh quel frammento di diario non lo prenderò mai Prenderò questo Nessuno rimane a guidare o proteggere ma non ci importa la mia compagna si ripara con me ora Non possiamo aiutare chi è rimasto indietro Intanto questo lentamente Niente si è bloccato Pfff Non sono io giuro Si è bloccato lungo quest'asse Proviamo a uscire da questa zona e tornarci Magari Ma che cazzo però È possibile che a me mi si bughi tutto Ma che è? Siete voi che buggate i giochi Comprate le versioni pirata dei giochi Perciò sono buggati Fino a un po' di anni fa Adesso no adesso non ho smesso di vista stronzata Ma fino a qualche anno fa quando noi mostravamo dei bug pesantissimo di alcuni giochi che uscivano La cosa comune era Eh voi avete le versioni craccate Perciò sono buggate Neanche li comprate i giochi e ne volete parlare Come vi permettete È un po' un'angoscia era Adesso hanno smesso Chissà per quale motivo Forse non è più una pratica Comune Piratare i giochi Quindi i ragazzi non la prendono neanche in considerazione come Possibilità Oh raga io vorrei Vorrei Non dico che vorrei essere completista qui eh Però volevo prendere quel coso Allora Niente una volta che tocca terra poi va in quella direzione e non la smette Posso riportarlo io spingendolo così No No Troia Eva Beh però se lo spingo fuori da quest'area Ok Torno qua forse No No raga Ma Mo l'ho buggato proprio alla grande Sì però è lo gay Ma proprio è andato eh Ho buggato un puzzle platform ragazzi Io non pensavo fosse possibile Ma a quanto pare Ma è proprio pieno di cose nascoste questo gioco eh Eh Ci fermiamo al calore di un altro fuoco Gli spiriti guardiani ci provocano chiedendoci cosa speriamo di risolvere Non capiamo la domanda La mia compagna è silenziosa My companion che ne sai che è la tua compagna non il tuo compagno E' un casino di adattamento sto gioco eh Finora ho letto più di una frase strana E' proprio E' proprio E' proprio un po' Un po' maledetto diciamo Ma Se noi andiamo oltre Cioè mancava un ember ok però non so dove pescarlo Secondo me se vai da quello del fuoco e gli dici voglio andare avanti Lui ti fa andare avanti Perché dici voglio aiutare voglio aiutare Voglio aiutare vuol dire voglio rimanere a liberare gli ember corrotti tristi le anime poveracce Invece voglio andare avanti vuol dire guardiano aprimi la porta non mi cagare il cazzo Eh non so dove possa trovare quest'altra Quest'altra entità da liberare da aiutare da non lo so da fare che Proviamo a tornare nella zona cuoco che quella è una zona che abbiamo esplorato effettivamente un po' meno rispetto alle altre Questo ci abbiamo parlato Questa è sicuramente la zona in cui troverò la La mia ultima ember da aiutare Vediamo Aspetta 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 Forse da qui addirittura si passa Certo che si passa Però non c'è qualcuno da aiutare c'è semplicemente un'altra pagina di diario Tuffo hai fatto anche una scorreggia nel frattempo Ok Vabbè è un piccolo suggerimento su come sfruttare i maialini tutto intorno E va bene ci sta i maialini vanno sfruttati del maiale non si butta via niente E a questo punto mi aspetto di trovare qui La soluzione Però lo facciamo nel prossimo gameplay ragazzi Qui abbiamo già dato Pagm�使ota Ilpo 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 Ilpo